Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente tornati con la nuovissima puntata di Tubissima, la vostra rubrica di concept piccolo youtubiano preferita Sono sempre qui in compagnia di Stecco e ormai manca pochissimi giorni e lo toglierò Mi ci sono anche un po' affezionato, l'ho anche rivestito ultimamente perché in questi giorni faceva freddo e quindi aveva freddo In realtà mi era diventata la garza nerissima, sudicissima, sporchissima e quindi ho detto non posso andare in giro così, che schifo, OMG E quindi l'ho rivestito ancora, però non vedo l'ora di farci il video sul secondo canale Nel video reaction di quando rivedrò finalmente le due dita della mia mano destra dopo un mese di assenza E soprattutto voglio vedere come sono diventate le mie unghie, perché a me mi crescono le unghie velocissimamente Quindi dopo un mese che non me le taglio voglio proprio vedere come sono diventate, magari ci faccio un tutorial, un nail art Diventerò la nuova Michelinia Insomma veniamo a noi, prima di iniziare con gli scoop Vi volevo ricordare che ho scaricato ultimamente l'app 21 buttons e ci sto anche collaborando E quindi ve ne ho parlato nel video precedente che ve lo lascio qui nel pallino con la i di informazioni Così potete sapere tuttissime le novità del perché vi sto parlando ancora di questa cosa e di cosa parla e di cosa si tratta di questa app Però praticamente è una specie di Instagram solo che ci potete guadagnare dei soldi E se mi volete seguire anche lì mi raccomando scaricate l'app tramite il link che vi lascio anche qua sotto nell'info box Perché così almeno mi date anche una mano dato che è una collaborazione e almeno prendo una piccola percentualina di soldi Solo per la sincerità ragazzi che non vi ho detto che l'ho trovata lì così per caso Troviamoci tutti lì Solo per questo ragazzi aiutatemi e mi dovrete fare un piccolo regalino Scaricate l'app da qua, dal link qua sotto Insomma detto questo grazie mille a tutti Parliamo degli scoop di Youtube di questa settimana Ultimamente Youtube con gli scoop, con i gossip e tutta questa roba qui ci va leggero Solo che questa settimana ha aperto il canale Giulia Delellis Giulia Delellis è diventata una Youtuber Ha caricato il suo primo video in cui appunto far vedere ovviamente un makeup tutorial E quindi è diventata praticamente una Youtuber Ci mancava lei? Un'altra ragazza a fare tutorial di makeup? Evidentemente sì perché ha avuto tantissimo successo Tutte le fan sono super felici di questa cosa Io però mi sento di dire una cosa mia Un pensiero mio personale ragazzi Ok Fai, apri il canale Youtube, fai quello che ti pare Ovviamente a me mi sta simpaticissima lei, la amo E quindi sono contentissimo Però non mi puoi fare un tutorial da far vedere alle tue fan ragazzine Che avranno 14, 15, 16, 17 anni, 18 Poi ci sono anche quelle più grandi Però la maggior parte hanno quel range di età lì Non mi puoi far vedere dei trucchi che costano 100 euro, 60 euro, 70 euro Io proporrei a Giulia Delellis Di fare, di continuare il canale Facendo dei tutorial in giro per il mondo, per l'Italia Della vita quotidiana con Andrea Dato che comunque di tutto il video che ha caricato Giulia Tutte le fan sono impazzite quando è arrivato anche Andrea Quindi perché non diventate i nuovi Pepperoni's Family di Youtube? Pensateci, pensateci Giulia, Andrea, pensateci E anche perché il primo video mi è sembrato un po' Sburrato, un po' così melenzo Perché te non puoi fare i tutorial di make-up dove sei qua giù Dove non ti si vede e far vedere le marche dei trucchi qua No, ti devi avvicinare Avvicinati Giulia La telecamera è tua amica Ma poi quanta gente c'aveva al di là della telecamera? Guardava sempre là quanta roba c'è Comunque detto questo io do l'in bocca al lupo e il benvenuto su Youtube a Giulia Dato che Youtube è sempre aperta a nuovi talenti Chiude le porte solo a me perché a me non mi monetizza più Mi leva video, mi toglie tutte ste robe Però va bene, adoro tantissimo Adesso passiamo al secondo scoop Scoop, più che scoop è un gossip Io è mille settimane che vi dico Mille tubissima che vi dico Calità dolce, c'ha il nuovo fidanzato Si è lasciato dall'altro, non lo fa vedere E lui è quell'altro C'è una storia su Instagram di qui e di là Finalmente Carlita si è decisa a mostrare il suo nuovo fidanzato su Youtube Durante i suoi ultimi vlog c'è sempre questo Dario Mi sembra Dario, si chiama Dario Non vorrei fare una figura di merda Ma mi sembra aver capito che si chiama Dario Che si chiami Dario Dario quindi è un nuovo fidanzato di Carlita E come andrà a finire ragazzi Faranno come in passato Carlita ha fatto con Max Cioè inizieranno i vlog giornalieri insieme Si scioglierà Dario alla vista della videocamera E inizierà a parlare un po' di più E a diventare una specie di Andrea come Andrea e onorina Oppure servirà tutta questa storia perché in realtà non è il fidanzato Ma è solo l'amico che si presta a questa roba Non lo so Fatto sta Io sono molto contento per Carlita Che ha ritrovato finalmente l'amore e la felicità Almeno lei Però voglio parlarvi che durante sotto il video in cui appunto presenta ufficialmente Dario Il fidanzato Le persone, le iscritte Praticamente hanno fatto passare questa cosa così Come posso dire Insordina in secondo piano Perché tutti si sono alterati Perché Carlita ultimamente sta pubblicizzando un po' troppo fittea I fitteati Tutti su Instagram ragazzi stanno pubblicizzando questo fitteati Solo io Tempo fa Gli dissi a questa zia No guarda non me li mandate Non voglio collaborare con voi Perché mi volevano mandare quello dimagrante Quello che ha appunto Carlita E io ho detto se dimagrisco così Dell'altro anch'io Ciao ne moglio Però adesso me ne sto pentendo Perché ho visto che tutti ci fanno peggio soldi con questa roba E solo io Stronzo ho detto di no Vabbè fatto sta che tutti si stanno cazzando Ma Carlita ma è possibile che tutti i giorni In tutti i video Te ci devi piazzare questa marca di te È impossibile È impossibile Ma poi perché dici Insomma Carlita Se ondo YouTube Un ne fai una giusta Un è possibile Cioè Volevano che tu presentassi Finanzato L'hai presentato Hanno trovato la scusa Per Andarti contro Un'altra cosa Se tu facessi un video Secondo me Su Fitea Sotto i commenti Sarebbero Ma perché non ci fai vedere Tutto finanzato Questa roba qui Ormai è così ragazzi È impossibile Vivere la vita Sereni e contenti Fatto sta che Carlita Se ne fotte E mette 1800 pubblicità al giorno E quindi va benissimo così In bocca al lupo Anche a lei Per questa nuova Love story E niente Gli scoop sono questi due ragazzi Fanno cagare Però È quello che ci passa Al convento E fatemi sapere voi Cosa ne pensate Qua sotto Tramite commento Di tutta questa roba Se anche voi siete contenti Di Giulia dell'Ele Su YouTuber Oppure no Del fidanzato nuovo di Carlita Oppure no E soprattutto Fatemi sapere Se vi piace 21 Buttons Che sono sicuro Per chi ama la moda E per chi mi ha richiesto Crissima Perché volevo dire Il mio nome è Cristiano Poi Insomma così Cristiano Ma perché non fai Dei video outfit Di moda Non li faccio Perché adesso Pubblico tutto lì Fatemi sapere tutto Quello che volete Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao